Con il nuovo modello di speaker Sonos Move, Sonos lancia per la prima volta sul mercato uno speaker che supporta una connessione diretta via Bluetooth anziché via lano WLAN. Un'altra novità è la batteria ricaricabile integrata, che può essere ricaricata tramite una connessione USB-C. Ciò significa che Sonos Move può essere utilizzato come speaker Bluetooth mobile. Infine, ma non meno importante, supporta il protocollo AirPlay 2 di Apple ed è in grado di funzionare in multi-room. Oltre a queste caratteristiche positive, tuttavia, ci sono anche due punti deboli che tutti dovrebbero considerare prima dell'acquisto. Sonos Move ha due amplificatori in classe di Sonos. Valutazione del redattore per Sonos Move Sonos Move dovrebbe offrire anche il suono di un sistema per uso portatile quali dispositivi e servizi sono compatibili con Sonos Move. Vantaggi del diffusore Sonos Move Vantaggi del diffusore Sonos Move Confronto Sonos Move, recensioni in sintesi prezzi e disponibilità. Di Sonos Move sono Smooth, dettagli tecnici e altri test, guide e manuali Sonos Valutazione del redattore per Sonos Move Il suono in movimento, Sonos non l'ha mai fatto prima. Con Sonos Move, il primo diffusore portatile Sonos è finalmente pronto a colmare questa lacuna nella gamma. La caratteristica speciale, gli utenti possono passare dalla modalità Wi-Fi alla modalità Bluetooth utilizzando un interruttore sul retro dello speaker. Ciò significa che gli amanti della musica non sono più legati alla rete Wi-Fi. Secondo i primi test, la qualità del suono è impressionante in entrambe le modalità di riproduzione. Inoltre, Sonos Move si adatta acusticamente all'ambiente circostante grazie alla tecnologia TruePlay. Inoltre, Alexa e Google Assistant sono stati integrati e consentono il controllo vocale di Sonos Move in modalità Wi-Fi. Il diffusore portatile può essere utilizzato anche con Apple AirPlay 2. Purtroppo, due piccoli inconvenienti offuscano l'impressione generale positiva. In primo luogo, Sonos Move è relativamente pesante, con un peso di 3 kg, e in secondo luogo non è esattamente economico, con un prezzo di circa 400 euro. Inoltre, Alexa e Google Assistant